Sono tanti anni che conosco questa società sportiva, anche se dall'altra parte del campo, dall'altra parte della rete, e la conosco da sempre come società molto seria, molto organizzata e soprattutto una società di cuore. In questa prima fase cercheremo di ricondizionare dopo l'estate il gruppo dei giocatori che non hanno fatto attività con le nazionali. A seguire ci sarà un arrivo scaglionato di giocatori che al momento non sono presenti qui e vedremo, navigheremo a vista su situazione per situazione per cercare di portarli tutti in condizioni uguali, da modulare bene la stagione in modo da riuscire ad arrivare pronti nei momenti di accesso ai play-off di quarti e di finale di Coppa Italia, poi vedremo cosa verrà. Dovremmo riuscire a lavorare nell'arco della stagione per farci trovare bene nei momenti giusti.